Tu l'hai filmato? L'ultimo film. Hai fatto un film? L'ho rivela due mili anni, due mili anni che ha un'apertura aperta alla vita. Viene la vergogna a parlare con quest'uomo che ti dice ieri ho filmato, domani vado a filmare, l'altro ieri ho fatto un altro film. Una per la vergogna, se ti un'honte. Lo faccio come te, vivere, per cinema sei vivere. Anche io ho fatto pare, prima facevo un film ogni due anni, uno dietro l'altro, adesso mi sono un po' calmato, poi vedremo se l'età ce lo consente. No, non abbiamo pressa. No, no, pressa niente, mai. Non siamo pressati per una sola cosa, per la morte. Ma quella lasciamola stare lì. Tranquilla. Però ti voglio dire una cosa in napoletano, perché riguarda la pressa, per capire che non bisogna correre. la gatta, la gatta, la gatta. La gatta. La gatta. La gatta. La gatta. Per chi è presa per correre, facette i figli e cercate, fece, le enfants avevano. Per correre, per andare in tutta la vitezza. Non bisogna andare in tutta la vitezza. Spazio. 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 Però con cuizio. Spazio, però con cuizio. Ti agraece questo? Eh? Eh? Non, ma guarda che... No.